Ciao, bambolina. Allora, come stai oggi? Alla grande, perché è la vigilia di Natale. Ah, sì, è vero. Sua figlia adora il Natale. Cerca di divertirti. Papà, non sono carinissimi? Sembrano. Anna Treferite. Cosa? Ti dispiace dirmi che ci fai nel cammino? Tu mi vedi? Come ti chiami? Mi chiamo Nicola Babbo Natale. Che cosa sono? Carote. Mia moglie ha detto che devo mangiare più sano e pensa che così non mangi i biscotti. Ma non funziona. Se sei il Babbo Natale, dimmi cosa vuole Charlotte come regalo. Una finta trusse di trucchi e il monopattino? È giusto, visto papà? Una finta trusse di trucchi è il desiderio di tutte le bambine di otto anni. Chi accidenti sono? Un pupazzo di neve, un elfo e uno schiaccianoci come tutti i martedì a casa mia. Devo andare. Nic! Che sta succedendo? I malviventi vogliono il mio elenco dei buoni e dei cattivi, ma ho anche diversi amici qui. Eddie è un non credente. Davvero? Un babbofobico. Scusa, come? Babbofobia, paura di Babbo Natale. È ridicolo. Non credi che io sia chi sono veramente. Tanto da fare ho dei regali da consegnare. Papà, noi dobbiamo aiutarlo. Dove siete finiti? Siamo con Babbo Natale che suda glitter e ci sono queste persone. Portala a casa subito. Dov'è finita la barba bianca? L'ho tinta. Voglio sembrare più giovane. Me lo merito. Come possono loro due derubarci? Questi due! Voglio soltanto che tu ricominci a credere. State per vedere una slitta trascinata da otto fette. Avrò associato male il bluetone. Per chi lavori? Alcuni pensano che lavori per padre tempo. Ultimamente dicono che lavoro per Beyoncé. Ma no. Ogni uomo sposato lo capirebbe. Lavoro per la signora Natale.